Oggi siamo qui a parlare di formazione e ricerca per il futuro del settore idrico, ma può esistere veramente un grande spazio per la formazione e la ricerca in questo settore? Sì, non c'è dubbio che la formazione e la ricerca nel campo idrico acquistano sempre più importanza nel nostro Paese come in tutto il mondo sviluppato. Si tende sempre a parlare delle problematiche idriche del mondo sviluppato, ma noi sappiamo che invece esistono problemi molto più gravi nel campo idrico per tutti i Paesi che costituiscono i due terzi del mondo. Quindi è necessario affrontare i problemi nostri, ma affrontare anche i problemi degli altri e soprattutto di coloro i quali il servizio idrico non ce l'hanno, perché lei sa che gli investimenti sarebbero proibitivi per spostare i quantitativi di acqua elevate da un paese all'altro, da un punto all'altro, per esempio dell'Africa oppure dell'Asia. Quindi questi popoli hanno gravi difficoltà. Nei nostri casi invece noi abbiamo una sovrappopolazione certamente, ma un uso abbastanza intensivo della risorsa idrica. la inquiniamo e poi abbiamo bisogno di depurarla, di potabilizzarla, di avere delle disponibilità per migliorare la qualità. Quindi si è passato in questo periodo da studi prettamente quantitativi a studi soprattutto qualitativi, nel caso in quanto anche questo è un dato fondamentale perché ha rapporti con la salute degli individui e quindi è necessario approfondire e sviluppare la ricerca scientifica e la formazione dei giovani, soprattutto nella direzione di preservare una qualità dell'acqua che possa essere compatibile con la salute umana. Questo è l'obiettivo fondamentale. Siamo qui con l'ingegnere Lorenza Meucci, con la sua relazione presentata oggi, l'acqua nello spazio, ovviamente è un argomento che già incuriosisce, però la notizia è che nello spazio viaggia acqua italiana. Sì, questo è certamente un grosso vanto per noi, che praticamente le agenzie spaziali internazionali, quella americana, quella russa e quella europea, abbiano scelto di affidare questo compito di preparare l'acqua che devono bere gli astronauti di tutto il mondo, presenti sulla stazione spaziale internazionale, di preparare quest'acqua a un'azienda di Torino, cioè la tale Salenia Space, che a sua volta ha dato a noi questo compito. Quindi noi che gestiamo il servizio idrico integrato della provincia di Torino, quindi che ci occupiamo dell'acqua che la gente a Torino beve dal rubinetto, ecco in pratica dobbiamo anche preparare l'acqua che gli astronauti bevono sulla stazione spaziale internazionale. La prossima spedizione sarà? Allora, la prossima spedizione è prevista praticamente per gli inizi del 2012, ma noi già stiamo preparando l'acqua che verrà consegnata a tale Salenia il 27 settembre prossimo, quindi praticamente stiamo proprio lavorando in questi giorni su come preparare appunto quest'acqua. Oggi sulla stazione spaziale sono in quanti? Sono in sei astronauti, dovrebbero essere appunto tre russi, due americani e un cinese. Ovviamente stanno mediamente alcuni mesi, in genere sei mesi, poi ruotano, ecco in pratica in questo momento è questo l'equipaggio presente. L'acqua italiana ha vinto rispetto alle altre, perché? Perché abbiamo dato notevoli garanzie di costanza, perché appunto quello che è particolare di quest'acqua è che deve essere un'acqua praticamente che non cambia mai nel tempo, anche per molti mesi, e questo le acque naturali, le nostre stesse acque, anche le acque minerali ad esempio un pochino cambiano. L'acqua che invece va nello spazio deve essere ovviamente pura, eccetera, e deve avere determinate caratteristiche che abbiamo detto sono diverse a seconda di quelle che vogliono gli americani e quelle che vogliono i russi, però principalmente devono essere acque che non cambiano minimamente dal punto di vista chimico e dal punto di vista microbiologico.